Ciao a tutte e tutti! Quante volte ci siamo trovati di fronte al dubbio? C'è, c'è, ce n'è, ce n'è. Ma come si scrivono? In questa video-lezione proveremo a chiarirci le idee. Iniziamo da ce. Facile, no? Significa esserci. Ad esempio, a sinistra c'è una pianta, in mezzo c'è una lampada, a destra c'è un frullato. Ce, invece, ha un significato che è riferito a noi. Ad esempio, a noi servirebbero delle graffette. Ce le presti? Cioè, a noi le presti? Oppure, quante matite ce le fai provare? Cioè, a noi le fai provare? Ancora, è già ora di alzarsi? Non ce l'aspettavamo. Sempre noi. Passiamo ora a ce n'è. Che significa? Di questo c'è. Ad esempio, che buona? Ce n'è ancora? Che significherebbe? Di questa c'è ancora? Vuoi della pizza? Ce n'è parecchia? Ovvero, di questo c'è parecchio. Ce n'è di cose da studiare? Che significa? Di queste c'è tanto da studiare. Stesso discorso col verbo essere all'imperfetto. Ce n'era, ce n'erano, significano. Di questo c'era, di questi c'erano. Esempio. Ce n'era di gelato. Ce n'erano biscotti. Ora è rimasta solo la frutta. Vediamo infine ce n'è, che si può trovare col verbo essere alla terza persona singolare o plurale. Ovvero, ce ne sono, ce ne sarà, ce ne saranno. Ecco degli esempi. Per distinguere ce n'è da ce n'è, posso darvi un ultimo consiglio. Provate a sostituire la e con essere. Se potete farlo, allora scrivetelo con la n apostrofo e accentata. Per oggi abbiamo concluso. Se vi va, mettete un like al video e iscrivetevi al canale Maestra Ilaria. Alla prossima videolezione! Grazie a tutti.